Siamo in basca con i cento stile libero categoria assoluti che comprende ricordo junior cadetti e senior in acqua la serie otto con Longhin, Scotuzzi, Marchetto, Zacchettin, Perla, Alba, Razzetti e Presotto presentiamo la settima con Filippo Perazzolo uno, Cristian Valerio due, Simone Girardi tre, Edoardo Patuzzi quattro, Gianluca Griffante cinque, Riccardo Miele sei, Amit Cohen sette, Alessio Balbinot otto. 58 e 19